Primo sopralluogo dei periti incaricati dalla procura di Arezzo sulla E45, i professionisti si sono recati presso l'area di servizio crollata lo scorso 13 febbraio nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano tra l'uscita nord e sud. Nel materiale franato stoccato da parte di una ditta della Valtiberina erano stati ritrovati rifiuti speciali, un campione di quel materiale era già stato prelevato ed inviato ad un laboratorio per le analisi. La procura di Arezzo aveva disposto il sequestro sia del materiale stoccato che dell'area di stoccaggio. Il sopralluogo è il primo di una serie e per il momento le bocche restano cucite. Non quelle dei residenti però che denunciano di aver segnalato dal 2011 all'ANAS il movimento di questa collinetta e la vistosa crepa sull'asfalto dell'area di servizio. Questa mattina erano presenti solo per agevolare il sopralluogo della procura perché l'ordinanza di sgombero delle loro abitazioni emessa dal sindaco di Pieve Santo Stefano Albano Bragagni un mese fa è ancora in essere. Siamo preoccupati perché può cadere questo muro, quello sì con tutti i guai che sta succedendo dal 2011 credo quando io feci la segnalazione all'ANAS.